Cari amici di Warren Books, se siete genitori di bambini ancora in età scolare, comprate il libro di cui vi parlerò oggi e potete ancora salvarvi. Il danno scolastico, edito dalla nave di Teseo, la scuola progressista come macchina della diseguaglianza, è il racconto controcorrente della scuola e del suo percorso negli ultimi 40 anni. Racconto attorno a una tesi che è una tesi forte, una tesi che mette in discussione molte certezze, una tesi che sicuramente farà discutere. La scuola senza qualità, quella del sei politico, quella degli esami di maturità ridotti a poche materie, quella dell'indulgenza, quella delle competenze che sostituiscono le conoscenze, quella della lezione frontale che viene archiviata in nome di modalità pedagogiche più moderne, bene, quella scuola lì che cosa fa? Anziché ridurre il divario tra ricchi e poveri, svantaggia proprio i centi meno abbienti, quelli che vorrebbe proteggere, produce un effetto paradosso opposto a quello dichiarato. Questa tesi è sostenuta da due personalità del mondo culturale italiano, Paola Mastrocola, preside, docente di lettere, scrittrice di molti romanzi di successo, editorialista sui quotidiani nazionali e Luca Ricolfi, sociologo e docente di analisi dei dati, presidente della fondazione IUM, anche lui saggista di successo e editorialista della Repubblica e della Stampa. Sono molto lieto di averli qui con me a War Room Books e li ringrazio di aver aderito al mio invito. Buongiorno. Il libro è un libro, come dicevo, controcorrente, l'ho voluto presentare con una battuta perché credo che sia un libro utile per trasmettere una consapevolezza che purtroppo è molto sottovalutata nel dibattito pubblico. A questa consapevolezza Paola Mastrocola giunge attraverso un'intuizione che deriva dalla sua esperienza di insegnante, da docente, cioè si rende conto che la scuola sta franando sotto i suoi piedi e che i migliori propositi con cui sono stati smontati tutti i presupposti di un insegnamento storico tradizionale fondato sui classici, fondato sulla fatica, su quell'attrito che segna il rapporto tra lo studio e la cultura. L'effetto paradosso di questo processo è che non aiuta i più deboli, non aiuta i più fragili, anzi aiuta chi è già forte, cioè aiuta le classi ambienti. Come arriva Paola Mastrocola a questa intuizione? Beh è molto semplice, è proprio anzi banale. Io ho sempre insegnato al liceo classico e scientifico soprattutto al biegno e ogni anno notavo nei due anni primi del liceo scientifico che mi arrivavano ragazzi sempre meno preparati e alcuni di loro poi non riuscivano a completare il corso di studi e cambiavano scuola, andavano in un istituto tecnico con grande dolore perché avrebbero preferito continuare lo scientifico. Allora io so che la tesi dei progressisti è che vanno male a scuola, non arrivano a finire coloro che sono di ambiente svantaggiato, di classe sociale bassa eccetera. Io non ho notato questo, cioè questo è vero, è indubbio che la classe sociale di appartenenza ha un valore positivo o negativo a seconda. Però io notavo l'impreparazione, cioè se tu mi consegni in prima liceo un ragazzo che non sa scrivere nemmeno l'ortografia, non dico la grammatica e non dico la logica, non sa tenere un discorso orale che abbia un senso per più di mezzo minuto, non sa capire un libro neanche tanto complesso come un romanzo di Calvino, allora io mi dico che c'è qualcosa che non va, cioè probabilmente abbiamo fatto una scuola diversa tra liceo e elementari e medie, non lo so. Comunque sta di fatto che questa scuola che non prepara a zoppa coloro che hanno solo la scuola come risorsa e a cui noi dovremmo dare una scuola alta, se vuole poi le spiego in una battuta che cos'è per me la scuola alta, invece noi gliela diamo e avvantaggiamo i figli dei ricchi, delle classi abbienti, delle classi colte che hanno tutti gli strumenti per completare le mancanze, cioè li mandano a lezioni private a manetta, posso dire, tutti i giorni di tutte le materie, io ho visto cose inenarrabili. E non soltanto quello che lei dice per me, poi le dirò perché, ma intanto voglio chiedere al professor Ricolfi, che tra l'altro è il suo marito e quindi a cui lei ha chiesto di verificare questa ipotesi e l'analisi che il professor Ricolfi ha fatto, è molto molto documentata, è un'analisi lunga tre anni, ce ne parla professore? Sì, molto mentieri, anche se voglio ribadire una cosa che è già emersa tra le righe, cioè in realtà qualsiasi persona non troppo ideologizzata, l'ipotesi di mia moglie la condivide e ci arriva motu proprio, non è che c'è bisogno di chissà quali ricerche per dimostrare questa tesi, però viviamo in un mondo in cui le nozioni di senso comune vengono sistematicamente trattate come stereotipi e quindi anche una cosa di senso comune come quella che noi abbiamo cercato di esplorare va supportata e quindi noi ci siamo messi all'opera come fondazione YUM per provare se i dati supportavano oppure no l'ipotesi di Paola, di mia moglie. Ora, questo lavoro è stato abbastanza complicato perché abbiamo dovuto costruire un modello matematico-statistico, però il risultato è stato molto molto netto, cioè in sostanza noi abbiamo misurato due effetti della scuola differenti, uno che abbiamo chiamato effetto meritocrazia, cioè il fatto che se tu vai in una buona scuola ottieni dei risultati in termini di ascesa sociale migliori di quelli che otterresti se andassi in una scuola cattiva, altra cosa che è abbastanza ovvia e di buon senso è confermata dai dati, ma poi c'è un secondo effetto che invece è lo specifico di questa ricerca che abbiamo chiamato effetto emancipazione, cioè andare in una buona scuola rende la carriera sociale del ragazzo meno dipendente, meno condizionata dall'origine sociale e quindi ha un effetto emancipativo. Questo effetto è tanto più intenso quanto più la scuola è alta, quindi una buona scuola, una scuola di livello alto è un formidabile strumento di emancipazione, di liberazione delle classi subordinate. Questo è il risultato tecnico, risultato che però diventa comprensibile, più comprensibile secondo me attraverso il racconto delle nostre esperienze, perché il libro è costruito in due modi, anche un'architettura un po' curiosa, perché c'è l'ipotesi di Paola, poi c'è la mia esperienza, che è esperienza di professore universitario che per 30 anni ha insegnato in facoltà diverse, economia e commercio, scienze sociali e psicologia. Io quindi racconto quel che ho visto in questi 30 anni e quel che ho visto ha una spiegazione in quello che ha visto Paola, perché lei ha insegnato qualche anno prima a ragazzi che si situano qualche anno prima dell'ingresso all'università e quindi è stata in grado di fare una sorta di radiografia, di TAC, delle condizioni mentali degli studenti che poi io mi ritrovo qualche anno dopo all'università. Questa è un po' la struttura del libro. C'è un elemento chiave in questo divario incolmabile che la scuola produce e la professoressa Mastrocolla lo chiama periodo critico, cioè c'è una fase in cui le cose si imparano e dopo non si può recuperare ciò che non si è imparato. Devo dire che leggendolo questo libro mi ha molto confortato perché voglio portare una memoria personale. Io ho sempre pensato a quello che dice la professoressa Mastrocolla ed essendo figlio di insegnanti, in particolare mia madre professoressa di lettere ha formato moltissimo la mia storia professionale, la mia storia culturale, io ho sempre purtroppo per loro somministrato ai miei figli dei grandissimi dettati nell'infanzia, addirittura prima di andare a scuola e nelle nostre vacanze facevamo i quiz di analisi logica, cose che ovviamente uno le fa però poi in un clima collettivo molto diverso si sente quasi in colpa di averle fatte e una volta ricordo che un bambino rimasto a dormire a casa da noi e si svegliò la mattina insieme ai miei figli per portarlo a scuola e io dissi adesso facciamo questo piccolo dettato. Lui tornò a casa da papà e disse io non vado più papà a casa di Riccardo perché mi fanno fare i dettati e la cosa faceva un po' sorridere con i genitori. Bene, quello che scrive Paola Mastrocolla mi conforta e non mi fa sentire un marziano. Perché? Perché con la metafora dei gattini cerchi Paola Mastrocolla racconta che c'è un periodo critico e se in quel periodo in critico tu non impari le cose che devi imparare poi succede che l'insegnante Paola Mastrocolla incontra i genitori di ragazzi che non ce la fanno e deve dire questo ragazzo non ha le basi. Una frustrazione per l'insegnante e per le famiglie. È così? Sì, guardi io mi sono fatta l'idea che il punto fondamentale dell'istruzione di un ragazzo siano i primi anni dell'elementare e poi anche le medie. I primi otto anni sono determinanti. Io racconto la mia vita nel libro per dare una testimonianza autobiografica per quanto vale perché è solo la mia vita, però secondo me è indicativo. Io ho fatto una scuola elementare media negli anni 60 e che è stato il pilastro poi di tutto quello che io sono. Allora, cosa è mancato? O cosa manca oggi? Per cui io in prima liceo devo fare i dettanti di ortografia. E sa cosa succede? Che non riesco più a mettere a posto le cose. Ci metto un anno, alcuni recuperano, cioè imparano che un po' si scrive con l'apostrofe e non con l'accento, però vede, sa qual è la cosa drammatica? È che io in prima liceo scientifico dovrei fare letteratura. Dovrei parlare di Dante, Petrarca, Leopardi, Pascoli. E lo facevo anni fa. Negli ultimi 15-20 anni c'è stato un degrado progressivo, per cui io se facevo in seconda un sonetto di Petrarca, dovevo metterci un mese per stare sulle parole. Ed è questo che volevo dire io per scuola alta, quella che avremmo dovuto dare a tutti e soprattutto ai ceti bassi. Le faccio un esempio. L'Iliade. Non è vero, magari si fa l'Iliade nelle scuole ancora oggi. Io penso di sì, ma come? Cioè io temo che si faccia in modo, ti racconto la storia di Achille, di Ettore, il duello, eccetera. Oppure rappresentiamo teatralmente questa scena. Sono tutte cose meravigliose e per quello che non ci capiamo, la scuola elementare oggi fa cose meravigliose, ma non va. Sa cosa dovrebbe fare? Una cosa invece molto umile, molto meno meravigliosa. Cioè dovrebbe stare sulle parole, far fare i pensierini, le frasette, allargare il lessico, fare grammatica. Quelle cose che non compaiono, che non sembrano belle nemmeno ai genitori, perché anche i genitori sono fieri che il ragazzino faccia teatralmente l'Iliade. Capito qual è il problema? L'insostenibile leggerezza dell'analisi logica. L'analisi logica che è considerata oggi qualcosa di noioso, inutile, eppure lei spiega che sapere che cos'è il complemento predicativo del soggetto è fondamentale, perché su quella base si poggia tutto il castello successivo delle cose. Sì, ma vorrei essere più precisa, non perché io adori l'analisi logica, io ho fatto letteratura, io amo la letteratura, non la lingua o la grammatica. Il problema è che se io voglio far leggere poi Dante, Shakespeare, Goethe o che ne so, io devo averla fatta l'analisi logica, se no questi poveri ragazzi non capiscono niente ed è colpa nostra. Il problema è che oggi Dante e Goethe si leggono assai molto meno e si legge per esempio Saviano a scuola e anche questo c'è una sostituzione nel livello di complessità delle letture e tutta diciamo la cultura classica è assolutamente archiviana. Forse non solo questo, perché l'esempio che lei fa di Saviano e che potrebbe essere moltiplicato con altri testi impegnati, fa vedere forse un altro aspetto, cioè un aspetto tra l'altro che è stato messo in evidenza recentemente da Walter Siti, che è un ottimo critico letterario, anche un grande scrittore, nel suo libro Contro l'impegno. Ora questo aspetto qual è? È che noi pensiamo che la letteratura, oggi noi tendiamo a pensare che la letteratura abbia una funzione etica, abbia una funzione morale, debba salvare la società e si scivola rapidamente verso debba insegnare, debba educare, debba indottrinare, debba instillare i valori giusti. Questo è un diminuzio della letteratura. La letteratura storicamente ha anche fatto questo qualche volta, ma non era il punto centrale della letteratura, per cui il fatto che si legga Saviano e non si legga Dante non è solo un fatto di difficoltà, è un fatto di politicizzazione dell'insegnamento della letteratura, politicizzazione che era sostanzialmente assente quando noi eravamo ragazzi, quando andavamo a scuola noi. Potevi avere, se hai l'età mia, l'insegnante invasato che non fa il programma e fa politica, ma la letteratura era ancora Dante Petrarca, Boccaccio, eccetera. Oggi no, oggi è normale che il Bibliade si faccia con i riassunti o con le trascrizioni moderne tipo Baricco e la capacità di leggere il Monti, cioè qualcosa che è molto bello, ma proprio perché è bello, difficile da raggiungere, questa capacità non c'è più. Io sono molto colpito, ad esempio, dal impoverimento del lessico. Se noi avessimo la serie storica di quante parole distinte un ragazzo conosce, conosce il significato, dal 1960 a oggi, scopriremo che la ricchezza del lessico si è enormemente ridotta. Le parole usate sono pochissime e sono pochissime anche le parole di cui si conosce esattamente il significato, perché ci sono parole di cui si conosce l'esistenza, ma di cui non si conosce il significato. Professore, voglio chiedere un'altra cosa. La politicizzazione della letteratura. Lei nel libro dice che ovviamente questa è una responsabilità anzitutto della sinistra, ma anche la destra ha concorso, sia pure omissivamente, a produrre questo risultato, cioè ha rinunciato a costruire e a difendere un patrimonio culturale e di trasmissione del sapere. è così? Sì, purtroppo è così, anche se la spiegazione dell'assenza della destra è un po' complessa e difficile, cioè io penso ci siano vari fattori che hanno concorso a questo. Da un lato c'è tradizionalmente un minore interesse della destra per tutto ciò che è cultura, letteratura, arte, eccetera, perché sono diventati sempre più patrimonio prevalente della sinistra. Ma poi c'è stato un altro fatto invece, questo molto più preciso, e cioè che sono arrivati gli anni 90, cioè è caduto il muro di Berlino, è iniziata la globalizzazione, è iniziata la nostra ubriacatura collettiva per le virtù del mercato. Cioè negli anni 90, nei primi anni, nel primo decennio del 2000 di questo secolo, i riformisti di sinistra, fautori della terza via e i liberisti di destra che si ispiravano a Reagan e Thatcher, si sono trovati sostanzialmente concordi nel lodare le virtù del mercato e nel ripensare l'istituzione scolastica come un'azienda, come un'impresa, come un'erogatrice di servizi a degli utenti. E quindi si sono trovate unite, cioè non è un caso che quando Berlinguer fa la sua riforma non c'è una vera opposizione e anzi le riforme di Berlinguer vengono completate poi da Moratti, Giannini, eccetera, perché c'era questo clima pro-mercato e pro-mercato del lavoro, pro-utile, una cosa su cui Paola insiste molto nella sua parte, cioè cosa significa considerare degno di essere insegnato solo ciò che è spendibile, solo ciò che è utile. Questo è stato l'errore. Nel frattempo molte cose sono cambiate a scuola, una mi ha colpito nel racconto di Paolo Mastrocola, la scuola che umilia, la capacità di provare vergogna, era una risorsa della crescita personale. Oggi un'umiliazione potrebbe costare a un docente anche un procedimento disciplinare, comunque i genitori ne andrebbero su tutte le furie. Che cosa è cambiato in questo? Beh, è cambiato che l'insegnante non è più una figura rispettata, non ha più nessuna autorevolezza, la famiglia si impone perché è l'utenza, ed è proprio partito dagli anni 99-2000 con la riforma berlinguera, è proprio cambiato il lessico della scuola, è entrata la parola utenza, è entrata la parola offerta, che è una parola da supermercato. Quindi ogni scuola vende le sue offerte e cerca di compiacere l'utenza. Ora, l'utenza, ovvero i genitori e i ragazzi, cosa vogliono? Vogliono qualcosa di facile, qualcosa di divertente, soprattutto di non umiliante. Guardi che la vergogna era un sentimento bellissimo, secondo me, perché era l'idea che tu riconoscevi qualcuno al di sopra di te. Ora, se io oggi dico la parola al di sopra di, non so cosa mi fanno, però era così, cioè eravamo anche molto semplici e tutto sommato banali, cioè pensavamo che un ragazzino non era alla pari di un adulto, era un ragazzino, doveva ancora crescere, e se andava a scuola, era un allievo che doveva imparare, e l'insegnante invece insegnava, quindi non era alla pari, ha capito? È questo che è saltato. Ora, io posso provare vergogna solo se ritengo che davanti a me ci sia qualcuno di autorevole e di non alla pari. Ci hanno tolto questo sentimento meraviglioso che ci ha fatto crescere. C'è una lettera bellissima della cosiddetta La Pera, l'insegnante Giovanna Peretti, che fece scrivere a voi studenti nel 1966-67, una lettera in cui dice sappiate che i colloqui dei genitori li possiamo sospendere in qualunque momento, perché noi non rispondiamo ai genitori, noi rispondiamo allo Stato e alla nostra responsabilità di formatori. Quindi dite ai vostri genitori di non porre questioni inutili, perché noi non siamo disponibili ad affrontarle. Un altro tema, è bellissima questa lettera, devo dire. L'ha trovata un mio compagno di classe, casualmente, qualche tempo fa, me l'ha spedita e io l'ho messa nel libro perché in poche parole ti fa misurare quanto tempo è trascorso, perché una cosa così sarebbe inconcepibile oggi. Un altro tema fondamentale che poi sta dentro questi processi di formatori è il mito dell'oggettività nella valutazione. Ora, voi non siete contro la valutazione, anzi, tutt'altro, il professor Rigolfi fa analisi dei dati per professione, quindi figuriamoci se è contro la valutazione. Però il problema è che la valutazione oggettiva è diventata il dominio della burocrazia sulla soggettiva responsabilità dei docenti di assumere delle decisioni fondate sul loro sapere e sulla loro coscienza. E' questo che è accaduto, professore. Io devo raccontarvi un po' cosa succede nella nostra famiglia. Se avessimo scritto questo libro 20 anni fa, Paola e io avremmo scritto cose diverse, perché lei è sempre stata molto ostile ai test. Io invece ho avuto una fase, come dire, modernizzatrice, riformista, in cui ci credevo di più. Col tempo ho capito che aveva assolutamente ragione mia moglie, cioè i difetti dei test a crocette sono molto più grandi dei pregi, anche se io non li trovo del tutto inutili. Su questo forse rimane una piccola differenza di opinioni tra di noi. Io non li ritengo del tutto inutili, perché penso funzionino molto bene nei confronti collettivi. Cioè se tu costruisci un test in valsi banale, che ha certa abilità inferiori e non si occupa delle cose più importanti di cui un ragazzino dovrebbe essere dotato, che sono valutabili solo da parte di un insegnante che gli parla. Se tu usi un test di questo genere per giudicare un individuo, sballi completamente la valutazione. Tra l'altro c'è tutta la pratica di addestrare i ragazzi a superare i test e non a sapere le cose. Ma se tu questo test di modesta qualità lo somministri a centinaia, migliaia di ragazzi e poi fai dei confronti aggregati, cioè confronti che so io, la scuola di Pinerolo con quella di Terbo e risulta una differenza macroscopica di successo tra i ragazzi di Pinerolo e quelli di Terbo, per stare questo esempio, quella differenza è significativa perché la stai ottenendo in media su un elevato numero di soggetti. Per cui lo strumento, io insegno psicometria che si occupa anche di queste cose, lo strumento può essere molto imperfetto per valutare l'individuo perché ci sono effetti casuali nella prestazione del ragazzo, ma non è così imperfetto se confronti tra di loro delle classi, delle scuole, degli atenei per esempio. Nell'università la follia è stata di valutare con strumenti bibliometrici i docenti e determinare le loro carriere in base a questo, ma quegli strumenti non erano cattivi per confrontare gli atenei, sono cattivi per confrontare tra di loro gli individui e soprattutto, questo è il punto, creano un sistema di incentivi sballato che nell'università significa vivere per pubblicare, cioè non ti interessano le tue ricerche, ti interessa soltanto massimizzare il numero di pubblicazioni e la natura delle riviste su cui arrivano. E nella scuola crea quella distorsione folle che è l'addestramento dei ragazzi per superare i test, invalsi o di altro tipo, cancellando completamente il momento del colloquio tra il docente e lo studente che è l'unico strumento, e qui Paola ha perfettamente ragione, per capire effettivamente qual è il livello di preparazione, di comprensione, di padronanza della materia di un ragazzo. Professore Samastro-Cola, il libro incomincia con queste frasi, c'è un modo perfetto di fraintendere questo libro, è quello di leggerlo come una proposta di ritorno alla scuola e all'università del passato, però poi ovviamente c'è una difesa sostanziale di tutti gli istituti culturali su cui si fondava l'istruzione tradizionale, per esempio la lezione frontale, come si coniuga, come si concilia la necessità di questa robusta intelaiatura, diciamo architettura del sapere e della didattica con la necessità di aggiornare anche però la stessa didattica, per esempio di riconoscere agli studenti un ruolo più attivo nella lezione e anche con la necessità, per esempio, sì, lei critica duramente il passaggio dalle conoscenze alle competenze, che è una metafora con cui racconta quello che è accaduto alla scuola, però il saper fare, il problem solving, cosiddetto, è davvero qualcosa che deve essere demonizzato dentro l'offerta didattica o c'è spazio per entrambi, per il sapere di base e anche per questo sapere più applicato? No, c'è spazio per entrambi perché abbiamo delle scuole tecniche che vanno potenziate e che devono lavorare in vista all'apprendimento di un lavoro futuro, però tutto ciò non deve toccare i licei perché il liceo è fondato sulla cultura astratta e gratuita, tra virgolette inutile, se io la rendo utile la svaluto, quindi le competenze sarebbero come tu riesci a usare le conoscenze che hai in qualche cosa di pratico, ma se io insegno filosofia, se io insegno letteratura, perché devo avere questo fine pratico lavorativo su qualche cosa che invece arricchisce la persona e sicuramente migliorerà il lavoro di quella persona, ma io non lo so e non lo voglio valutare o... Cioè io vorrei che tenessimo insieme le due cose, ma non buttassimo a mare tutta la scuola culturale, chiamiamola così, in nome della nuova scuola tecnocratica che si basa sulla scienza, l'oggettività, l'utilità e la spendibilità. Questo non può succedere perché vorrebbe dire che noi ci prendiamo la responsabilità di buttare a mare Platone, Aristotele, Dante, eccetera, eccetera. Io non me la sento, cioè siamo arrivati dopo millenni a tramandare questa cultura, dobbiamo smettere proprio adesso. Comunque lei ha citato l'inizio del libro, è molto vero, questo libro è facilmente come dire attaccabile perché uno dice vabbè questi due vecchiardi raccontano come era la scuola e evidentemente dicono che adesso la scuola fa schifo. Non è esattamente così. Noi abbiamo voluto, proprio perché vecchi, abbiamo voluto dare una testimonianza, si dà, no? In genere la testimonianza è molto accettata in termini storici, eccetera, non vedo perché non darla come scolari, no? Che resti lì? Noi non abbiamo espresso un giudizio che la scuola deve tornare lì, no, no, non torniamo, andiamo pure avanti, però io ti racconto come funzionava, bene, allora, e cosa siamo diventati noi? E qua, cioè, il fatto che, io ho sempre pensato che il fatto che io sappia scrivere dei romanzi è dovuto al fatto che la mia maestra mi ha insegnato a mettere le lettere bene bene sulla linea e a non sbordare. Ha capito? E io la penso come lei e non penso che i nostri ascoltatori penseranno che voi siate due vecchiacci che vogliono difendere il passato. No, ma anche perché la scuola del futuro, dicevo, la scuola del futuro può ottenere qualche cosa del passato? Cioè, non è che muore, se tiene... la direzione del progresso non è archiviare il passato, ma no, c'è che scegliere che cosa aggiornare e che cosa... Ma queste sono le grandi questioni diciamo del pensiero uniformista e progressista. Ci insegnava l'altezza, scrive qui Paola Mastropola, ma la domanda la farò al professor Di Polfi, e la lontananza, il rispetto della distanza e della diversità di se stessi, quella scuola. Lei ha scritto di recente un articolo sulla Repubblica, che è il suo primo articolo sulla Repubblica, che ha suscitato anche una grandissima reazione all'interno del mondo della sinistra vicina al quotidiano di Maurizio Molinari. C'è una tendenza alla cancellazione delle differenze, c'è una mitologia dell'uguaglianza che riguarda lo spazio e il tempo, che vuole azzerare le differenze della storia, le differenze dei sessi, le differenze culturali di ogni natura. È una ideologia del presente, professor Ricordi? Sì, è una ideologia del presente molto diffusa, soprattutto nei paesi anglosassoni, ma sta arrivando anche in Europa. Tra l'altro con Repubblica pubblichiamo contro questa ideologia un manifesto, sempre di Paola e mio, che si chiama Manifesto del Libero Pensiero, in cui cerchiamo di raccontare questa ideologia e di descriverne i difetti. Uno dei difetti è di difendere una nozione errata e fuorviante di rispetto. Il rispetto sostanziale che passa attraverso la capacità di mettersi del punto di vista dell'altro viene trasformato in qualcosa che non ha nulla a che fare, cioè con il rispetto vero, cioè nel uso di parole che altri ci dicono dobbiamo usare e che la gente non ha alcuna voglia, capacità, intenzione o sensibilità per usare perché sono calate artificiosamente dall'alto e poi c'è soprattutto l'incapacità di percorrere la distanza con le altre culture. È abbastanza paradossale che nel momento in cui veniamo invitati giustamente a capire gli immigrati, a capire le loro culture di provenienza, a considerare una ricchezza il fatto che si incontrino persone con un background differente. In questo momento però noi non siamo capaci di tollerare un verso di Dante o un mito greco perché a qualcuno particolarmente stupido quel mito greco o quel passo di Dante fanno venire in mente lo schiavismo, lo stupro, cose orribili che sono successe ma che non siamo capaci di contestualizzare. Quando Giove si innamora di una ninfa e la possiede è un mito, non è uno stupro che dobbiamo censurare perché la nostra sensibilità moderna non è in grado di nemmeno di accettare il racconto di qualcosa che non solo è successo nel passato ma nel caso di Giove non è nemmeno successo. Allora questo significa che noi stiamo allevando una generazione di ragazzi che non sono capaci di sostenere la fatica del dissenso e dell'espressione di opinioni diverse dalle proprie. Cioè la domanda che c'è in America e comincia ad arrivare anche in Italia di spazi protetti è una autodichiarazione di incapacità di tollerare il diverso in un mondo in cui ci dicono che il diverso va rispettato cioè questa cultura è la grande contraddizione del presente abbiamo rinunciato a considerare diciamo che cos'è anche il potere come gestirlo come dividerlo come fronteggiarlo e che cos'è la difficoltà della vita perché abbiamo rinunciato a quell'attrito che si determina quando lo studente nei primi anni si trova a fronteggiare testi di complessità e cresce dentro quell'attrito altrimenti si produce abbassando la sticella scrive Paola Mastrocola il fallimento finale di tanti e innanzitutto di quanti hanno meno risorse la scuola non li ha bocciati li ha salvati prima facendoli fallire poi e poi di fatto innescato quella si chiacchi si chiama dispersione scolastica il risultato è lo stesso i deboli non ce la fanno la dispersione scolastica è una bocciatura più soft diluita nel tempo ma meno chiara e meno onesta sia anche perché si fanno tanti progetti convenni sulla dispersione scolastica e si potrebbero eliminare le cause che la producono e questo il pensiero di Paola Mastrocola è così si guardi io sulla dispersione scolastica veramente do i numeri perché la dispersione scolastica intanto l'abbiamo voluta noi dando una preparazione scarsa ai ragazzi cioè è ovvio che poi non ce la fanno e si disperdono e vanno altrove non è solo un fatto sociale smettiamola di collegare l'abbandono scolastico solo con le origini sociali ci sono va bene d'accordo ma la parte nostra è la preparazione dare una preparazione enorme altissima a questi ragazzi in modo che possano farcela fino alla fine perché se no siamo noi che li disperdiamo e questo è non so è un concetto che non non so mi piacerebbe che qualcuno me lo spiegasse perché invece non è così mi piacerebbe che che ci fosse uno scontro che finalmente i progressisti anche dicessero una volta una volta su una cosa abbiamo sbagliato ecco io mi aspetterei questo ma non perché a me non importa il problema è che se tu riconosci uno sbaglio poi di lì ricominci rinnovi allora sì che rinnovi la scuola però bisogna riconoscere quello che non è andato qua invece andiamo sempre avanti le magnifiche sorti progressive progressive appunto perché l'andare avanti per i progressisti è di per sé progresso ma non è detto una cosa è andare avanti e una cosa è il progresso ve lo diceva anche Pasolini ecco vedi lui è più conto di me questa sorte diciamo deterministica tocca anche al concetto di meritocrazia perché i bravi sono abbandonati i bravi sono abbandonati ma la meritocrazia durante la stagione diciamo degli anni 90 e 2000 aveva vissuto una fase di di spolvero per così dire sostenuto dalle culture della pari opportunità poi è come se la crisi della globalizzazione avesse fatto pentire i progressisti di aver investito sulla meritocrazia no e si è detto sì ma stiamo attenti alla meritocrazia c'è in molti libri anche si sostiene questa tesi guardate che la meritocrazia lo diceva anche Anthony Giddens nella terza via fa salire molti ma fa scendere altrettanti e allora che facciamo la cancelliamo puntiamo torniamo a puntare sull'uguaglianza è questo quello che sta avvenendo professore Ricolfi si sta avvenendo sotto forma di discriminazione alla rovescia al contrario per cui si assume che certe categorie siano discriminate e le si cerca di favorire in modo artificiale ad esempio con le azioni affermative le quote rosa le quote eccetera quindi si stiamo cercando di imporre l'uguaglianza con la forza questo si però io voglio dire questo il nostro libro non è molto costruttivo perché effettivamente noi raccontiamo come sono andate le cose perché è il primo passo per cambiare però c'è una parte in cui una piccola parte in cui il nostro libro è costruttivo cioè indica anche qualcosa di concreto che andrebbe fatto ed è proprio sulla meritocrazia cioè noi distinguiamo tra la meritocrazia come esaltazione del libero mercato che permetterebbe da sé di colmare le diseguaglianze e di opportunità e la meritocrazia come politica dall'alto politica sociale che mette tutti in condizione di completare il ciclo di studi se se ne hanno le capacità indipendentemente dai mezzi che poi è l'articolo 34 della Costituzione cioè noi facciamo due esempi primo i premi che sono stati praticamente cancellati ma negli anni 60 era normale che le fondazioni bancarie per esempio istituissero dei premi per il migliore di una scuola per il migliore di un istituto per riconoscerne il valore erano premi in denaro credo che Paola ne abbia anche vinto uno non so se nelle medie sì in seconda media ho vinto il premio della Cassa di Risparmio siamo andati era una bellissima cerimonia al Cariniano e c'erano tutte le famiglie si saliva sul palco ci hanno dato una busta e io i miei mi hanno fatto un piccolo libretto bancario lei non ha idea della felicità perché è venire riconosciuti all'interno di una comunità vuol dire che quello che tu stai facendo ha valore per gli altri con cui vivi è una cosa bellissima dare un premio ai più bravi e non dobbiamo sempre pensare che offende gli altri gli altri avranno altre capacità avranno altri premi noi non lo sappiamo la vita secondo me distribuisce parimenti gioie e dolori dovremmo avere una visione un pochino più ampia e Paola Mastrocola era figlia di una sarta e di un contadino lo racconta nel libro quindi sì mio padre era figlio di contadini in un piccolo paesino dell'Abruzzo è stato l'unico a studiare facendosi però ogni giorno 9 km a piedi anche nella neve per andare nelle scuole perché lì non c'erano e poi è diventato ha fatto il poliziotto poi è studiato le serali è diventato ragioniere è entrato alla Fiat è stato l'uomo più felice del mondo ecco la nostra la nostra idea nel libro è che non si debba arrivare a questo punto per farsi strada nella società perché il papà di Paola non ha avuto borse di studio aiuti eccetera invece noi nel libro sosteniamo proprio questo che oltre ai premi che diciamo incentivano i ragazzi a studiare e riconoscono il risultato degli sforzi oltre ai premi ci vogliono le borse di studio ma borse di studio vere per tutta la carriera scolastica cioè se un ragazzo è capace è bravo ottiene dei buoni voti e non è in condizione di arrivare all'università lo Stato deve metterlo in condizione di arrivare fino a prendere una laurea e magari anche un dottorato questo avrebbero dovuto fare i riformisti negli anni 90 e negli anni 2000 non fidarsi solo del miracolo della globalizzazione del mercato eccetera eccetera in questo senso il nostro libro è anche propositivo e costruttivo è l'unica cosa su cui non abbiamo dubbi poi sul merito ovviamente come dovrebbero essere cambiati i programmi eccetera non spetta a noi dirlo ma sulla questione di applicare l'articolo 34 della Costituzione su questo noi siamo convinti che i progressisti dovrebbero farci una riflessione non dimenticare l'articolo 34 come hanno fatto che recita i capaci e i meritevoli anche se privi di mezzi hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi allora cari politici comprate e leggete questo libro e poi guardatevi allo specchio e cari genitori in attesa che i politici comprino leggano questo libro e si guardino allo specchio attrezzatevi da voi perché l'emergenza che questo libro racconta è reale e riguarda i vostri figli grazie a Luca Ricolfi grazie a Paola Mastrocola e grazie a voi cari amici di World Books ci rivediamo venerdì prossimo per un'altra proposta buona giornata a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti